Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, oggi sono tornati su pokémon spada Yeah, l'anno scorso video, se non mi spaglio, come ricordo, abbiamo visto i sette cape bollette dal gioco, sono sette? Che strano, va bene, comunque, prima di cominciare vi voglio dire che questa serie è mia, quindi Yeah, quindi ve lo spiego adesso perché ho fatto questo Yeah, avete presente nel episodio 2 dove ho detto che dovevo parlarvi, che ho fatto, che ho detto voglio dire una certa cosa di questo gioco o di un certo pokémon perché poi non ho detto più, ecco perché vi presento il nuovo membro, cioè, l'ho detto, cioè, diceva perché è inizio del cavolo, eh, calcio controller, eh, quindi, dito, dito in benvenuto a rock di più più allenato, ovviamente, off camera, però, quindi, è un rock di femmina, perché sì, è un mio dio, l'ultima evoluzione, come mi piace, non so perché, ma mi piace, comunque, tu che volevi, hai un panda, bundle, p, no, no, che si cambia con il mio scopet, no, non ho voglia, grazie, comunque, in questo episodio, andremo verso il percorso 3, che non so dov'è, ho fatto pure la rima, dove è il percorso 3, dov'è montare lì, eh, tanto per, ho sprecato solo, ecco, comunque, nello scorso episodio, pure, eh, il nostro Scorpani si è evoluto in, Re, Rabot, e in questo episodio, come ho detto, andiamo avanti, eh, tanto per, voglio montare un po' a rock di, allora, qui ci sarebbe, un altro, Pokémon che vuole mettere in squadra, però, non so se, conviene, perché, sono indeciso fra 3, Pokémon, cioè, di tipo fuoco più che altro, cioè, il primo è questo, come si chiama, non mi ricordo più, eh, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, vabbè, vabbè, sono, non so se catturare, lui, o, aspettate che salghiamo di livello qualcuno, Scott, bravissimo, non ho letto che è il prossimo, però, chi se ne, tanto lui, eh, ok, faccio un po', allora, un Pokémon un po' su tiepido, perché non l'abbiamo ancora incontrato, però, l'altro Pokémon che vorrei catturare per la mia squadra, è proprio qua vicino, quindi ve lo farò vedere, super efficace, pure brutto colpo, bravissimo, non ho ancora fatto il tuo, il tuo sapernome, però, bravo, quindi, chiaramente, di livello, Pikachu, eh, Rock di, bravissimo, Pikachu, vedete, allora, il prossimo Pokémon, di tipo fuoco, che vorrei catturare per la squadra, è lui, Rock, Rockoli, però, non lo so, non lo so, allora, per ora, lo catturo, ok, alla fine, posso sempre decidere, se metterlo, oppure no, crede, allora, lo metto in squadra per allenarlo, per ora, oh, no, no, cominciare con, no, 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 cose, davvero, ecco, mantiamo, 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 per apport, anziché, allora, volevo solo, questo tipo di Pokémon, solo perché è, metà Terra, perché gli altri Pokémon di tipo Terra, gli è, che mi piacciono, eh, ah, sapere, oppure, 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 lasciamo stare in quello che ho detto, facciamo stare, va, mettiamo una super pozione, che sappiamo già cosa fa, ed entriamo, sono tutti vivi, per caso, più o meno, dobbiamo allenare Scott, però, eh, tu, che c'è, tu che vuoi, oh, grazie mille, andiamo, miliardi color, ok, figo, eh, te preva, più Pokémon, bla, 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 vediamo se riesco ad arrivare alla prossima città, eh, spero di sì, qui, vai, bravo, non siamo, troppo calcio, tanto per, sotto il cuscio, la difesa è andata, vero, fatti, però, la ve lo fidà, no, quindi, ti sei mandato letteralmente, wow, ti sei mandato sotto da solo, azione, wow, azione, che paura, non è che io ti posso fecare, tanto taglio rapido, e ciao, wow, nessuno, non capisco come può essere successo, o no, vabbè, eh, cosa c'è qua, una Poké Ball, wow, e qui, percorso, caduta, ma sì, questo può essere buono, comunque ricordo che in questo gioco, si possono usare le mt solo una volta, non è come solo le luna, con gli xy, che potevi usarli tante volte, una cosa un po' stupida secondo me, però, ok, ok, so che, lì semplificavano poi il gioco, ma, allora, in questo episodio voglio, arrivare almeno, alla prossima città, se il gioco vuole, se il gioco vuole, doppio calcio, e non ho effetto, colpo passo, e non ho effetto, colpo, 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 primo, non ha più energia, scott, un altro trimpu, se vuoi essere mandato, K-O, per me va bene, uno, due, scusate per i tagli, però, quasi per i dati, eeeh, e continuiamo, allora, che poche, che tipo è questo coso, terra e, niente, non me lo dice, non posso scappare, lo so, gioco lo so, uno, e due, sassata, che mi fa un po' eh, credo che non poterò mai, tipo, troppo calcio, livello 15 per rocote, e se tutto va bene nel prossimo episodio, non so quanto, non so quanto, si evolve, questo fa, 60 ogni, attacco, e tu, quanto fai? ah, non so cosa fa di più eh, per fortuna che noi abbiamo qualcosa chiamata, pozione, in questi casi, mi, ci serve usare solo, solo la pozione, se no, è inutile, allora, devo tenermi il conto, i 10 minuti sono passati eh, vediamo quanto fa con questo, alla faccia, si, 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 credo che fanno lo stesso effetto, credo, vabbè, fine, check, muori muori muori, sconfitto, e level up per, nessuno, lavoratrice, vediamo che, c'è, un'altra mt, di sottruce, che non usero mai nella mia vita, però, meglio di niente, meglio di niente, credo che possiamo continuare, un'altra, vogliamo ammantare, questo roso, devo, 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 devo fare il soprannome, più che altro, corvo nero, ciglio nero, forse ho, un soprannome, però, lo tiro, o a fine episodio, o nel prossimo, vediamo quanto faccio con peccata, non la faccio, devo solo, ma, deve solo essere più, più veloce, e sono a posto, peccata, level up per, sconfitto, wow, terilpu, uno terilpu, mi sa che questo, me lo metto a campare, però, eh, ah, ok, mi sono scappiato, vabbè, che poche, che raffio, questo mi fa leggermente di più, e io li faccio leggermente di più, capiccivo, ai, questo fa male, va bene, va bene, va bene, pozione, dov'è pozione, questa è l'ultima pozione, non la faccio, allora, non so che ho altri, poche modo, però, voglio usare, per ora, quelli che, entrano, nel team, mandalo a campare, non lo manda a campare, va bene, scott, vai te, mi sa che la prima volta che lotti, eh, il raffio, il raffio, adesso è un morso, ovviamente, oh, mi sta facendo un problema, eh, morso, fine, andiamo, e non ci credo, però, eh, so che in questo episodio, facciamo solo la pigliera, dai, si, 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 vai, 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 lavoratore, il re, o cogli, in teoria, so verificati, infatti, dopo il calcio, si, ciao, da un po' qualpa, non, non mi servi, non mi sembra, non mi sembra, si, 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 va, beh, va, 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 15, ho provato, ah, non credo, no, v multimedial che serva adesso. però posso sempre spendato queste buona queste buona spallata invece di peccato vai un due e da 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 barato operatore siamo avanti paio di scarpe robusti va bene e anche avanti cosa ok prima di andare tanto per non voglio rischiare specialmente poi vuoi passare da qua beh io ci ripenserei nel suo allenatore in possesso di teso stelle può passare senza prima vedersela con me infatti tu sei uno degli allenatori responsabili del campione no? apri bene le orecchie il presidente della lega pokemon e ti cambia lungo e più importante è il tuo campione essendo il prescelto del presidente questo significa che valgo mille volte più di te e ora che un ragazzino patetico come te assarci la forza di un vero allenatore pet allenatore tra i pokemon e solis che è un pokemon di tipo ehm me lo dice? non me lo dice qui adesso ho troppo calcio non è un po' che è tebile a questo attacco ok allora rimonta dannazione cambia subito cambia subito 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 accettazione e un po' che ti è tipo psico che bello spennato ecco questo volevo parlare ecco il vero tardo ok ora ok adesso è per vissuto penso che devo sacrificare qualcuno per curare gli altri livello 18 il prossimo avvino col 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 controi ma hai un controi da ehm per la fine potresti iniziare a lottare pure te eh vai vai scott scott perché se non mi sbaglio il te sei tempo le ha infatti se tu sei psico quindi automaticamente sei tempo le ha morso infatti tanto che questo è l'ultimo ecco si oh mio eh si in questo caso io faccio così e rientro ehm chi cura? curata fatti addio dopo questa lotta credo di concludere l'episodio eh se tutto va bene quindi tu mi pare cose buio sai che non lo so ecco ora io devo mettermi qualcosa in testa no? vabbè difesa non l'attacco è la difesa tanto per tanto che uso pacere solo perché potenziato non morì perché abbiamo fatto così tanto? oh attacco rapido ciao abbiamo finito con i pokemon? dimmi di sì eh piccoccio livello 16 eh fino ad attacco no allora lo faccio imparare mostrare il mio a piccoccio perché non non fa parte della squadra però se potete sempre capire il teo quindi è un po' come ti tiro psico io ovviamente che faccio? attacco vai con che ne so allora perché mi ha fatto così tanto prima? forse era un brutto colpo e non me ne sono accorto può essere quindi ho un bel rischio o un bel rischio tu hai un ciclo da cappino posso rischiare quindi può uscire speriamo un bel brutto colpo davvero brutto colpo sapete una cosa che non mi interessa quindi nel prossimo episodio ti porto una spada andiamo avanti non so dove andiamo avanti quindi niente forse siamo arrivati alla prossima città ma non sono sicuro quindi noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi